Allora buongiorno a tutti, oggi è una giornata bella, importante perché si presenta un film che riguarda il nostro territorio, un film prodotto e con una regia anche di protagonisti marchigiani, con la regista Federica Biondi di Iesi, con il produttore Simone Riccioni che è anche attore, quindi come Regione Marche siamo contenti di aver sostenuto questo film anche perché siamo soprattutto improntati a valorizzare le nostre eccellenze del nostro territorio, quindi non solamente ad acquisire produzioni cinematografiche da fuori ma è importante dare sostegno alle produzioni marchigiane, quindi questo sarà un po' l'orientamento anche in futuro della Regione Marche con la programmazione dei fondi comunitari perché prevediamo un ostanziamento, insomma io ho fatto richiesta di una somma importante 5 volte di più rispetto la passata amministrazione, quindi ho fatto richiesta, speriamo che vada in porto di 16 milioni di euro per far sì che escano annualmente bandi rivolti alle produzioni marchigiane e alle produzioni fuori regione, quindi per avere una media di 2 milioni anni proprio rivolte al cinema, perché la nostra regione è un palcoscenico veramente incredibile che può diventare un set cinematografico alla pari di altre regioni che hanno fatto importanti investimenti in tal senso, a breve verrà nominato insomma in corso il bando, sono in corso le valutazioni del nuovo direttore della Film Commission Marche, quindi sono in corso grandi cambiamenti e questo film è sicuramente per noi un orgoglio intanto perché pone l'attenzione sulle zone che sono state ferite della nostra regione e quindi non dobbiamo mai scordarci ciò che è accaduto ma stare vicini a questi territori e lo possiamo fare anche attraverso la cultura, attraverso l'arte e attraverso il cinema perché attraverso il cinema intanto rendiamo noti oltre a questi eventi tristi che però comunque danno anche dei messaggi positivi come la possibilità di rinascere dalle ferite e come anche la possibilità di rimanere anche più uniti nella comunità anche dopo queste tragedie, infatti queste storie racconteranno un po' come la popolazione è rimasta nonostante il dramma che c'è stato però la popolazione è rimasta attaccata al territorio, all'identità di questi luoghi e quindi ci sono anche dei messaggi, degli insegnamenti in questo film quindi per noi non ha solamente un valore divulgativo dei bellissimi paesaggi e dei bellissimi posti che comunque le riprese ovviamente racchiudono ma anche un messaggio sociale un messaggio quindi importante che vogliamo trasmettere quindi sono contenta che poi verrà diffuso insomma presentato anche fuori la regione Marche proprio per dare la possibilità ecco di conoscere il nostro territorio fuori confine questo è la finalità anche che ha il cinema per cui la regione vuole investire proprio far conoscere attraverso il cinema il nostro territorio, la nostra identità, anche la nostra forza come comunità marchigiana e quindi devo fare i complimenti al produttore, alla regista per questa bellissima pellicola quindi grazie e poi sicuramente ci rivedremo presto alla prima che se non ho capito male sarà qua in Ancona e poi dopo nelle altre città marchigiane poi anche a Milano insomma a Roma e quindi ci sono vari appuntamenti che racconteranno loro, grazie dell'attenzione Intanto grazie mille a Giorgia, all'assessore, grazie mille al sostegno della regione perché quando ci siamo incontrati è stato bellissimo l'incontro perché ci siamo subito trovati sulla stessa lunghezza d'onda nel riuscire a far rimettere un po' di luce su un evento di cinque anni fa del nostro terremoto abbiamo toccato tantissimi paesi del centro marchigiano qui ci sono tantissimi sindaci grazie mille anche per l'accoglienza e tutto quanto ci siamo incontrati con Federica Biondi e abbiamo deciso insieme di fare questo film perché potesse mettere luce a delle situazioni che erano capitate nel nostro centro Italia in questo caso nelle Marche di storie poi romanzate che si uniscono da un personaggio molto particolare che è il nostro Samuele Sbrighi che è il nostro protagonista del film e sono contentissimo perché abbiamo veramente dei luoghi incredibili nelle Marche e tante persone, dopo vi faremo vedere anche il trailer che è uscito oggi alle ore 11 ci sono luoghi che la gente marchigiana mi ha detto ma dove l'avete girato quindi questa è la cosa più bella perché non pensavo io vorrei un attimo lasciare la parola prima a Federica che ci spiegherà qualcosina da un punto di vista di regia poi a Samuele e poi un ringraziamento e vorrò far prendere parola anche al dottor Trivellato della Zurich piuttosto che il dottor Pepa della Confartigianato dico sbagliato perché io non sono molto bravo su queste cose e quindi niente Federica se ci vuoi dire qualcosa Scusate poi mi sono dimenticata di fare un altro saluto all'onorevole Mauro Lucentini che aveva seguito con noi il progetto che purtroppo non è qui in presenza perché è malato a casa con il Covid ancora ci sono questi strascichi che purtroppo quindi ecco un saluto a lui e faccio insomma anche da parte sua i saluti insomma i ringraziamenti Grazie Poi con il Covid insomma sarà ancora lunga infatti noi abbiamo girato in un anno abbastanza particolare diciamo è stato molto complicato ma intanto mi sento di ringraziare la Linfa Crowd di appunto Simone Riccioni, Anna Laura Pesallaccia perché è stato un incontro molto importante è stato un incontro importante forse anche per la nostra regione adesso senza essere presuntosa ma è stato emozionante è un lavoro emozionante questo la ballata dei Guccinfranti perché siamo andati incontro a delle persone ci siamo inventate le storie sono quattro episodi sono quattro episodi separati quindi è un film a episodi ma abbiamo cercato di cogliere le prerogative di questa terra abbiamo parlato di arte abbiamo parlato di futuro abbiamo parlato di famiglia di comunità e come di fronte allo smarrimento di fronte a un evento come quello che ci è capitato a noi come agli abruzzesi come insomma in tutti i posti colpiti da un terremoto devastante come questo del 2016 le persone sono poi riuscite a rispondere con un istinto di sopravvivenza ok prima ma poi anche con un istinto di umanità come si sono aiutati come hanno dovuto poi ripristinare un equilibrio rotto improvvisamente e come siamo stati poi importanti l'uno per l'altro e come ho visto anche poi il sostegno da parte di chi ci ha accolto nei vari comuni in cui abbiamo girato ho visto come hanno partecipato tutti gli interpreti di questo film come appunto ha partecipato la produzione e MoveLab che è anche in comproduzione che da crema hanno abbracciato insomma questo progetto per diversi motivi insomma e secondo me anche loro hanno sentito poi l'importanza di agire su questo tipo di argomenti mi piacerebbe anche ricordare oltre ai bellissimi nomi che abbiamo in Locandina a partire da Samuele Sbrighi che è il protagonista che è qui con noi che lo vedete proprio dominare la Locandina per un motivo particolare è lui che nonostante appunto gli episodi sono separati lui disegna i confini dell'ambientazione in cui viene girato questo film che noi probabilmente o forse no riusciamo a riconoscere però anche più bello insomma avere un territorio così eterogeneo è Lina Sastri Giorgio Colangeli Paola Lavini Caterina Sciula e la nostra punta di diamante che è appunto Simone Riccioni Milud Benamara anche Barbara Enrichi ha una piccola parte ma molto preziosa abbiamo poi avuto il sostegno proprio la voglia di partecipare anche di attori nostri a partire da Fulvia Zampa Fabrizio Tantucci Roberto Rossetti Enrico Verdicchio che in questi ultimi due fanno parte della compagnia della marca quindi proprio nostri Daniele Falconi Loredana Campanella che fa parte anche della scuola della Linfa Crowd Rita De Rosa e il piccolo Matteo Nasini che vedrete poi insomma cominciare la carriera secondo me in questo film devo ringraziare tantissime persone intanto spero un pubblico numeroso che possa essere appunto colpito come noi che ci emozionavamo mentre giravamo sono stati momenti veramente molto commoventi abbiamo proprio insomma affrontato questa cosa con il cuore a prescindere da quello che poi abbiamo raccontato è stato proprio un non lo so un richiamo naturale da marchigiani ma proprio da proprio da comunità non so se vi posso dare qualche spunto in più magari su quello che è il film come appunto il titolo che richiama un po' appunto una storia delle storie immaginate che però ci rappresentano moltissimo è un contenuto che parla di identità questi gusci infranti è un titolo insomma la ballata dei gusci infranti che riporta alla confusione che a volte si fa tra l'identità tra noi stessi e il luogo in cui siamo nati in cui appunto ci piantiamo le radici piantiamo la nostra famiglia quindi per noi è una qualcosa che ci identifica perdere la casa è appunto qualcosa che va a a dare diciamo un bel colpo all'identità però vediamo abbiamo visto anche in questi anni oltre al film insomma che poi si ferma a un certo punto per lasciare anche la realtà perché non è un'impronta documentaristica la nostra se non per qualche immagine che poi andrete a vedere e a soffrire un po' però diciamo che ritrovare un'identità è ritrovarla dentro dentro se stessi dentro i ricordi dentro quello che comunque fa parte di noi dalle nostre dalle nostre dalle persone che siamo quindi dal senso anche molto marchigiano devo dire dell'entroterra italiano di di essere molto gli uni accanto agli altri nelle difficoltà e penso che insomma l'abbiamo visto già noi girando questo film diciamo che mio papà è di Casterra e Mondo e la scossa del 2016 ha praticamente distrutto casa dei miei nonni quindi è un tema che mi tocca particolarmente da vicino e sono veramente tanto emozionato mai come prima proprio perché tocchiamo una tematica a me veramente molto vicina e molto cara sono contentissimo come ha detto Federica di tutto il cast che abbiamo avuto di tutte le persone che ci hanno sostenuto da i sponsor piuttosto che tutta la gente che ci ha accolto in queste località e prima dicevamo con l'assessore non è un film questo voglio ripetere non è un film marchigiano nel senso mi spiego meglio non è un film solo regionale cioè noi usciremo a livello nazionale come i film normali quindi avremo l'anteprima a Roma l'anteprima a Milano un'anteprima a Torino un'anteprima a Venezia usciamo a Bologna usciamo a Rimini usciamo a Pescara usciamo a Caserta quindi è un film che uscirà a livello nazionale diciamo che le marche ne fanno da padrone perché nelle sale marchigiane saremo ovunque e faremo dal 23 marzo in poi tutte le anteprime quindi faremo Ancona faremo Iesi Macerata Ascoli e via dicendo io faccio dire una battuta al nostro protagonista e poi lascio la parola al dottor Trivellato di Zurich e poi alla confartigianato ecco qua intanto buongiorno a tutti allora a parte insomma dei convenevoli che mi sembra però doveroso fare perché non è scontato come attore avere un'opportunità di girare un film come questo e secondo me dietro a questo film si sta creando un qualcosa di magico c'è un'energia un'energia speciale proprio per questo spero che che questa energia arrivi un po' a tutti voi che viva anche grazie al passaparola delle persone perché poi il cinema indipendente ha assolutamente bisogno del passaparola delle persone così come non è scontato avere un appoggio diciamo della regione appoggio di istituzioni di sponsor eccetera devo dire che che nel tempo ho avuto anche occasione e fortuna di conoscerlo come persone quindi il secondo film che facciamo insieme è nata anche una bellissima amicizia però ci tengo oggi in modo particolare veramente a ringraziare Simone per questa bellissima opportunità e per avermi fatto sentire parte veramente di questa regione che ha tanto da dire voglio ringraziare Federica che è una regista molto sensibile lo dico col cuore per un attore è un'opportunità straordinaria lavorare con registi del genere lei ha la sua opera prima e mi auguro vivamente con tutto il cuore insomma che non sia insomma sia solo la prima di una lunga serie anche perché questo vorrebbe dire fare tanti film per me con lei però ecco lei ha un'attenzione ha un'attenzione particolare con gli attori che non è una cosa scontata e questo film secondo me aveva proprio l'esigenza di un occhio come il suo un occhio che creasse una verità mi auguro che tutti insomma voi possiate riconoscere questa verità possiate empatizzare con le storie che avvengono insomma all'interno della storia con i luoghi mi collego a quello che diceva Simone e tutti coloro che vedono insomma le immagini del film mi dicono io sono Romagnolo e mi dicono cavoli ma dove l'hai girato questo film me lo chiedono come per dire non è possibile l'avete girato in Italia e io invece sono molto orgoglioso dico la verità di dire che l'abbiamo girato nelle Marche perché le Marche è veramente un tesoro da tanti punti di vista nel nostro caso parliamo di cinema e quindi Simone voglio dire è il quarto film che fa nelle Marche quindi ha un'attenzione molto particolare e un amore molto particolare per le Marche e me l'ha trasmesso concludo perché non voglio insomma rubare tanto tempo perché loro hanno detto delle cose insomma molto importanti e non mi voglio ripetere voglio ringraziare Anna Laura voglio ringraziare la Muv appunto la Linfa ho ringraziato Simone insomma perché è una squadra giovane e e questo si sente proprio dal punto di vista dell'energia perché c'è tanta voglia di fare c'è tanta voglia di mettersi in gioco c'è tanta voglia proprio di di coinvolgere persone attori del luogo insomma maestranze del luogo questo è veramente una fortuna per un territorio perché oltre diciamo alla formazione poi si possono avere anche degli sbocchi proprio opportunità per raccontare ma anche per mettersi proprio in campo in prima persona per tante persone quindi veramente speriamo mi ha fatto piacere prima sentire l'assessore che diceva insomma parlava di queste cifre così grandi per il cinema e speriamo che insomma ci siano tante opportunità per le Marche di insomma di raccontare tante storie e se dovete raccontare le storie chiamate Simone Riccioni perché di conseguenza vedo poi grazie grazie a tutti allora noi abbiamo avuto il sostegno dell'Azzurri che è stata per me una cosa stupenda sia da un punto di vista economica perché per essere un piccolo imprenditore è oggettivamente un sostegno ma soprattutto perché questa realtà in questa azienda ha creduto in un film che potesse mandare un po' di messaggio e sostenere una terra quindi dottor Trivellato a lei la parola grazie grazie Simone buongiorno a tutti anche da parte mia hai colto nel segno l'onore è il nostro di aver di aver contribuito di essere stati partner di questo film lo dico da da marchigiano perché ho la fortuna di essere marchigiano anch'io e quindi ricordo bene quel 2016 quando ci hanno presentato ci hanno offerto dato questa opportunità io sono stato veramente il primo sponsor a volerla a volerla accogliere insieme a Samuele chiaramente che è qua con noi per noi è un momento importante perché credo che sul mondo assicurativo ci sarebbe tanto da parlare ma non è questo chiaramente il luogo opportuno per farlo però per noi era importante farci vedere sotto tanti aspetti non solo l'aspetto che oggi uno conosce che è l'RCA ma sapere che quando capitano questo tipo di eventi questo tipo di di situazioni che stiamo vivendo oggi anche ancora tanto tanto importante ma quando capitano questo tipo di eventi è importante sapere che dietro alle spalle c'è qualcuno c'è qualcuno come un'assicurazione un'assicurazione che sta vicino al popolo che sta vicino alla popolazione che ha subito questo tipo di evento e che si stringe si fa forza collabora la nostra popolazione ha dimostrato di essere molto resiliente da questo punto di vista e si è unita e si è unita per costruire ricostruire con un'ottica e con uno sguardo al futuro e questa è la cosa più importante spesso oggi noi in Italia il tipo di cultura assicurativa secondo me non ce l'abbiamo molto e per noi era importante poter far vedere e far capire alle persone che spesso quando capitano eventi importanti avere alle spalle dietro un'assicurazione è un valore aggiunto è un valore aggiunto che dà serenità alle persone dà serenità ai familiari e porta quella tranquillità nonostante l'evento sia talmente tanto traumatico e talmente tanto forte ma porta quella di tranquillità non solo nel presente ma soprattutto in un'ottica futura e per noi era importante quindi è stato è stato un piacere poter essere poter essere insieme a voi essere un vostro partner in un momento così importante e spero che poi tutte le persone apprezzino apprezzino il film io sono curioso di vedere questi luoghi perché mi avete incuriosito questi luoghi delle marche che non conosco e penso di conoscere abbastanza bene le marche ma andrò starò attento a vederli e magari anche andare a vedere poi di persone quindi insomma ringrazio io voi ringrazio veramente l'organizzazione per averci dato questa opportunità di essere insieme a voi grazie a tutti grazie Simone io un piccolo ringraziamento prima di passare la palla a Samuele che è stato il gancio insieme a Riccardo di questa di questa bellissima iniziativa è nata così perché voi due avete deciso di vuoi dire sono Valentinori si basta tagliare ok più o meno siamo guardi con insieme a Massimo Mirabia siamo poi rappresentanza dell'Antinori Assifin agenzia Zurich di Macerata partner di Confartigianato Imprese Macerata Scorripiciano è fermo ormai dal 2010 e in questa occasione siamo stati appunto coinvolti dal vice segretario Riccardo Golota che ci ha chiamato chiedendoci se c'erano spazi per avendo reputato immediatamente l'iniziativa molto molto importante con una forte valenza sociale per il nostro territorio per quello che era successo non abbiamo fatto altro che girarci verso Zurich che devo dire ha risposto in maniera molto energica da Michele Colio che oggi non è potuto essere qui con noi per gli impegni presi precedentemente il dottor Trivellato che ringrazio per la presenza Laura Mazzaglia che ha sacrificato parte della sua domenica per raggiungerci ed essere qua stamattina e quindi poi tutto lo staff che si è mossa la macchina a Milano nella direzione perché stiamo parlando di Manuela Bottega di Marco Braga di Lorenzo Mondinari di la mitica Lella Dattilo Alessandro Esposito e mi scuso per chi non sto menzionando ma ne sono stati veramente tanti che si sono attivati si sono mossi appunto perché hanno reputato veramente importante questo film e quindi partecipare come giustamente stava dicendo Andrea sottolineando il senso delle assicurazioni e quindi abbiamo rafforzato con Confartigianato questa nostra partnership che in questo caso si è spostata fuori da quello che è il rapporto tradizionale per andare a sostenere che cosa un film dove ci siamo trovati praticamente in ufficio il vulcanico Simone che non conoscevamo insieme ad Anna Laura che hanno cercato di coinvolgersi ci sono riusciti fino in fondo e devo dire secondo me un film da una valenza veramente importante un film che mi permette di dire è un'opera d'arte per l'eleganza con la quale è stato trattato poi un argomento così delicato così purtroppo è catastrofico quello che è stato i vari sisma del 2016 che abbiamo subito nella nostra regione per cui un grosso in bocca al lupo al film allo staff che abbia nel più breve tempo possibile il maggior risultato il maggior successo per tutto quello che deve essere e allo stesso tempo mi auguro che sia una grossa propulsione per far sì che i nostri territori tornino velocemente a splendere perché lo meritano veramente quindi viva la ballata dei gusci infranti viva le marche grazie allora voglio ringraziare anche la Confartigianato e prego grazie grazie Simone ma un ringraziamento va di cuore e di persona a te ti do di tu perché affronti un problema che a noi marchigiani ci tocca e fortunatamente forse sfortunatamente un po' la tensione mi prende oggi emozione in particolare perché io sono dire che nati ho una seconda casa a visso e passo un attimo la parola inizio un attimo con una questione Confartigianato poi tocco il personale se mi permetti due cose che dovrei riuscire a tenere distaccate pertanto io mi focalizzo in questo momento a dire Confartigianato Confartigianato è impresa Confartigianato è impresa imprenditori imprenditori parliamo di persone persone che amano il territorio persone che ci tengono all'appartenenza persone che nelle difficoltà che si affronta quotidianamente sono sempre il meglio dei loro stessi fortunatamente siamo italiani io dico sempre che la nostra creatività è fondamentale per andare avanti in tanti aspetti in tutti i mondi toccare il problema del terremoto è un problema annoso per un certo aspetto ma che ci ha fatto capire tante cose la nostra facilità ma che nella difficoltà ci ha dato la possibilità di poter unirci solidarmente condividere tanti problemi ed entrare nelle problematiche dei nostri territori i nostri territori è spettacolare ho tanti clienti dal nord quando vengono qua giù si innamorano perché per noi tante cose sembra normali ma non lo è i contatti con le persone sembra scontate ma non lo è e allora vado sull'altro aspetto un più emotivo ve lo dico perché io ho questa casa su al centro di viso e quindi capite com'è la situazione io amo quei territori e proprio a Francesco Acquaroli in fase di campagna elettorale ho avuto modo da potergli esprimere l'importanza che poter un intervento forte sul terremoto ciò che purtroppo è stato gestito male nella prima parte iniziale questo ha portato purtroppo queste lungaggini poi non diciamo l'attualità perché poi i problemi è uno sopra ma far capire alle persone il contatto che c'è con questi questi territori io vado a visto mi sentivo su un nido ho due bambini piccoli uno specialissimo e dopo poco tempo eravamo in casa bussavi alle case ti trovavi chi ti dava il ciouscolo andavi da Petaci eri a casa tua andavi da K per nomi che ancora oggi infatiamo a casa e ci manca ma tantissimo io sono appassionato di pici non ti dico quanto mi manca che pure vado però avere i tuoi riferimenti tutti ti conoscono tutti conoscono 80 km facciamo i fine settimana per noi era un paradiso abbiamo questa casa dietro al comune che un piccoletto stretto e quando andavi lì i telefoni non prendeva un lusso che spettacolo andavi lì facevi quelle dormite serene scusate se vado sotto ma solo per ringraziare pensiero beh tante piccole cose che però nel tempo quando dopo questa ferita enorme enorme che ha creato al territorio e con tanta difficoltà stiamo cercando da spingere in tutti i settori in tutti dalla regione alla confartigianato su qualsiasi tavolo noi vogliamo il visto il nostro territorio come era prima considerando che tante persone non lo conoscono e questa può essere una bellissima opportunità che faccio solo un inciso io sono di Recanati non faccio il nome c'è stato un film su Recanati e il film è uscito nel 2014 dal 2013 al 2017 faccio questo perché è l'unico raffonto che posso fare perché la conoscenza finisce al 2014 oltre non sono non ho seguito la questione c'è stato un più 22% di turismo in più su Recanati e ci sono stati inventati ci sono aperti i negozi con il nome ci sono stati fatte frasi staccandole su tutto il territorio eventi diritto Rosa Giovane Favoloso non c'entra niente non teoria tutto è stato questo è un augurio Simone che io ti faccio te lo faccio con il cuore perché ce n'abbiamo bisogno che dobbiamo tornare come prima abbiamo perso tanto lassù soprattutto le persone perché farle ritornare non è facile però magari questo può essere uno stimolo a tanti di avere qualche ripensamento è uno stimolo per tutti e ripeto sono stupende quelle persone ha sofferto tanto e l'ho visto anche in momenti molto drammatici quando perdi la sfiducia di tutto o di tutti quando non sei più sicuro di te stesso e non sai dove andare addirittura barre che si mettono insieme per andare avanti per campare come si dice cioè quando che prima erano erano diciamo no avversari adesso competitor l'unione nelle difficoltà si trova tante 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 bellissime cose tra cui io dico sempre nella mia azienda nelle difficoltà si trova sempre le opportunità e quindi io lo che ti faccio è propagamolo il più possibile facciamoloci capire che i nostri luoghi sono originali le persone sono uno spettacolo grazie Simone grazie allora il film uscirà il 31 marzo al cinema a livello nazionale e dal 21 ci saranno queste anteprime faremo la prima a Lucicinema Porta di Roma il 21 marzo il 22 faremo l'anteprima a Lucicinema Bicocca di Milano non ho capito ah ok il 23 faremo la prima anteprima nelle Marche ad Ancona al cinema Giumetti e sempre lo stesso giorno sempre il 23 marzo saremo anche a Iesi quindi faremo un saluto in sala a Iesi e un saluto in sala ad Ancona successivamente andremo a Tolentino il 24 marzo faremo sia a Tolentino che a Matelica il 25 faremo Macerata e Fermo e saremo al Multiplex di Macerata e poi al Superotto di Fermo il 26 saremo al Cinema Giumetti di Porto Sant'Elpidio il 27 Fano che Senigallia sempre Cinema Giumetti il 28 se non sbaglio saremo a Teramo quindi siamo fuori regione il 29 invece siamo a Pesaro e poi abbiamo il 3 di aprile no il 2 di aprile Ascoli quindi queste sono diciamo le i saluti in sala gli eventi le anteprime chiamiamole così nelle Marche e poi il 4 di aprile Amandola ok che è una new entry è entrata ok una new entry abbiamo anche Amandola quindi dove il 3 il 3 aprile quindi 2 aprile Ascoli 3 Amandola Amandola è uno dei paesi che abbiamo toccato abbiamo girato ad Amandola abbiamo girato a San Severino Marche abbiamo girato ad Apiro a Macerata a San Ginesio a Fiastra ad Arquata del Tronto a Pioraco abbiamo girato anche al Comune di Fano e poi siamo stati sia il Cito che Canfaito che sono il Tibet delle Marche la faggeta più antica d'Europa posti meravigliosi abbiamo avuto anche il sostegno da parte dell'Unione Montana non so se mi scordo qualcuno dammi la mano Angoli di Paradiso ad Amandola abbiamo girato sì perché se non c'erano con tutto il rispetto posso dirlo se non c'erano le tue vacche io non avrei mai potuto girare questo film perché mi avrebbero fatto del male invece i tuoi animali sono meravigliosi che è una cosa incredibile quindi no abbiamo girato sì e niente ci vediamo il 31 marzo noi siamo qui se ci sono delle domande siamo a disposizione se no eventualmente per fare l'intervista a Samuele a Federica e via dicendo restiamo che a disposizione ancora posso farti solo una domanda veloce Simone sì ah ok ciao ti becco da tutte le parti esatto ti vorrei chiedere questo uno dal punto di vista lavorativo perché è stato citato l'utilizzo delle maestranze quindi capire se anche su questo anche voi avete impattato perché è stato un settore molto colpito quindi un po' quante persone ruotano attorno al film e la seconda è ma che film è cioè perché i tuoi film ci hanno abituato a non essere delle commedie c'è sempre un impegno ci sarà anche della denuncia tra virgolette o vuole essere comunque una storia leggera allora da un punto di vista di personale abbiamo avuto tantissime maestranze soprattutto marchigiane e poi abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato gli amici della Move Lab che dopo Niccolò e Mirko sicuramente vi farò dire una parola che hanno portato tutto il loro know-how da un punto di vista di attrezzatura e via dicendo però diciamo che il nocciolo da produzione assistenti di produzione e via dicendo sono tutti quanti marchigiani quindi stiamo con l'Infa cercando di costruirci una squadra marchigiana di professionisti che possano in maniera molto tranquilla e serena lavorare su tutti i set a livello nazionale e internazionale non è un problema perché ho veramente dei ragazzi bravissimi tant'è che abbiamo anche aperto una scuola di recitazione e ho dei miei ragazzi all'interno del film che fanno parte di Cinema Che Passione per quanto riguarda la seconda domanda no non è un poi farò rispondere anche a Federica non è un film che vuole denunciare qualcosa assolutamente è un film che vuole far vedere come la forza della gente l'unione la coesione possano far rifiorire un messaggio un fiore di speranza in una terra da questo punto di vista martoriata da un evento catastrofico come il terremoto io voglio mettere in luce la bellezza che c'è in queste persone che vivono lì in questo caso posso dire anche i miei zii il mio papà i miei nonni ormai non ci sono più che sono delle zone terremotate colpite non vuole essere assolutamente una denuncia ma un far vedere proprio la bellezza che c'è cioè ci sono delle persone che sono rimaste lì che hanno ripopolato dei paesi e che continuano a combattere per restare nella loro terra e questa è la cosa che volevo venisse fuori e da questo punto di vista Samuel ha detto una cosa verissima Federica che ringrazierò per sempre ha una delicatezza e ha avuto veramente una sensibilità nel girare questo film che per quanto mi riguarda mi tocca tutt'oggi Fede non so se sì no grazie grazie a tutti mi fa piacere ma è una sensibilità che mi avete poi ho sentito intorno a me quindi diciamo è stato un anno molto intenso di lavoro e sicuramente non incentrato a denunce il nostro film è un film che è un punto di osservazione sulla realtà ma una realtà a cui ci siamo arrivati immaginando delle storie è un film di fiction è un fiction insomma è narrazione quindi ci siamo proprio inventati le storie abbiamo solo preso da spunto appunto da un da un evento di questo tipo dal terremoto per guardare ancora meglio quello che abbiamo intorno portare le persone a riflettere osservando molto bene con il tempo giusto diciamo che il cinema è un grandissimo mezzo di comunicazione che ti permette anche di riflettere di prenderti quell'ora e mezzo due per riflettere veramente su quello che uno sta guardando e non solo guardare passivamente almeno questo è anche l'intento della regia l'intento di un lavoro come questo insomma è un po' più sì semplice però io spero che la gente possa riflettere un po' marci un attimo alla fine del film e capire un po' tutte le motivazioni che ci ha portato a farlo tutti tutti gli argomenti che abbiamo messo dentro perché ce ne sono veramente tanti il terremoto chiaramente è un'ambientazione è ancora un focus però abbiamo parlato di appunto di persone quindi denuncia proprio no assolutamente no posso prima di andare avanti e far vedere il trailer che è uscito oggi così che poi continuiamo tutte le persone che incontri possono perdere qualcosa ho perso una cosa chiedi a lui ha perso qualcosa lui ha perso qualcosa e lui ha perso qualcosa io sono Jacopo e vivo in un guscio di lumaca in mezzo alle montagne non so però se ci sono i pesci qua ciao amico mio dovresti venire tu sul palcoscenico come in questo teatro c'è lo stesso odore da sempre saranno tutti i sigari che ci ha fumato tanto dove sei vi vedete in bellezza eh io non mi lascio non mi lascio giurlo andiamo cambiare potrebbe bene pure a te sai hai paura a me nel mezzo del cammino di nostro lì mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era sbarrita io voglio andare da questo paese da questa casa ma certo da questo mondo ma dove vai corre Teresa corre non guardarla non guardarla se è vero l'ho dovuto imparare a non attaccarmi troppo alle case ho imparato a lasciarli andare allora noi siamo qui quindi Raffaele andavano bene le risposte? non ci sentiamo sì ok perfetto no no sto scherzando noi ci vediamo a fermo il 25 di marzo super 8 benissimo no allora se ci fossero altre domande se no lascio la parola un attimo a Nicolò che insieme al gruppo della Move Lab ha sostenuto questo film è venuto e ha coprodotto con me questo la ballata di Guscini Franti no 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 se mi metti qua 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 no 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 se mi metti qui un po' che la resistenza non si tocca sa eccoci che emozione allora è stata una bellissima esperienza anche per noi soprattutto la prima a livello cinematografico perché solitamente Move Lab si muove più in campo pubblicitario e grazie a Simone Anna Laura indirettamente ai nostri sponsor che io prima non conoscevo e grazie soprattutto a chi ha fatto da collante tra le due realtà che è il direttore della fotografia Gianmi Roberto Tieno che oggi non è qua perché è stato appena operato per dei suoi problemi di salute e quindi niente noi io parlo anche a nome di Mirko siamo veramente felicissimi e contenti del prodotto che è uscito a maggior ragione appunto per il fatto che è la nostra prima esperienza in ambito cinema quindi grazie ancora e grazie a Fede che è stata fantastica sul set è stata una bellissima sinergia la cosa più bella è che siamo un gruppo di ragazzi che il più grande sono io il più vecchio insomma ho 33 anni no vabbè Anna Laura ma tu ce n'hai 27 lascia stare quindi no se ci fossero altre domande siamo qua se no facciamo le interviste quello che serve non so se sono collegati perfetto allora io sicuramente per chi volesse possiamo dare un link dove ci sono tutte quante le date precise dell'uscita in sala e via dicendo nel frattempo io voglio però ringraziare il sindaco di San Ginesio di Pioraco di Apiro e di Amandola che se non sbaglio sono qui con noi ok perché non dov'è essermi sbagliato quindi intanto grazie perché siete anche venuti qui e vabbè il sindaco di Pioraco è anche Comunione Montana quindi ci hanno sostenuto anche come la Comunione Montana e niente quindi ci vediamo al cinema il 31 marzo però dal 23 ci sono le anteprime nelle Marche ecco dateci una mano insomma tanta passaparola grazie mille grazie mille grazie mille